In onda la replica di questi programmi, alle 6 l'apertura con il Mahamantra e alle 6.30 l'apertura in diretta con l'annuncio dei programmi di domani e naturalmente il buongiorno. Questi i programmi di Radio Krishna Centrale per questa fascia notturna. Radio Krishna Centrale trasmette per voi 24 ore non stop. Grazie a tutti i programmi di Radio Krishna Centrale. Grazie a tutti i programmi di Radio Krishna Centrale. Grazie a tutti i programmi di Radio Krishna Centrale. Grazie a tutti i programmi di Radio Krishna Centrale. Grazie a tutti. 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 Radiofoniche staticamente parlando, o meglio, ascoltando. Radio Krishna Centrale, ovunque in Italia non c'è paragone. Ma come te l'abbiamo appena detto, RKC, non c'è paragone, Radio Krishna Centrale. Non tutti capiscono subito. Non tutti capiscono subito. Radio Bambini, buon ascolto ai bambini, buon ascolto ai bambini e non solo a quelli. Grazie a tutti.